Vorremmo parlare del bilancio, un argomento che... Alessandro Brandoni, il bilancio preventivo del Comune è sempre un atto importante dal punto di vista politico. Quali sono le considerazioni della Lega in merito a quanto approvato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale? A nostro avviso questo è un bilancio assolutamente elettorale, fatto anche con colpevole ritardo, mettendo in difficoltà alcune attività economiche che aspettavano dei provvedimenti attesi da tanto tempo. Tra l'altro provvedimenti che servivano a colmare le conseguenze prodotte da inefficienze e ritardi di questa amministrazione. È un bilancio elettorale perché i soldi sostanzialmente sono stati spartiti tra i vari assessorati e quindi questo ritardo è venuto dall'attesa di trovare un accordo politico e lascerà delle gravi conseguenze per chi verrà dopo di questa amministrazione. Quali sono state le obiezioni che la Lega ha fatto in sede di confronto con la maggioranza? Ma guardate, questa giunta rischia di mettere in dissesto finanziario il Comune di Fano. Questa giunta ha ereditato un bilancio di un grande avanzo di amministrazione che sta rischiando di buttare via ad esempio con la variante Gimarra dove il Comune prenderà un mutuo da 5 milioni che poi forse diventerà da 10, 15, 20 milioni. Quindi questa giunta sta ipotecando il futuro della città di Fano. Questo è solamente un esempio di un investimento sbagliato che la giunta sta portando avanti e che in questo bilancio purtroppo è stato confermato. Il problema vero di questa giunta è che doveva essere la giunta della partecipazione e invece tutti i 47 progetti sul PNRR non sono stati condivisi con nessuno, con le attività economiche, con le attività sindacali, con le fondazioni, con tutti i soggetti delle associazioni, dai quartieri. Quindi è una giunta che decide all'interno della propria stanza dei bottoni. Tra l'altro mi risulta che non lo condivido neanche questi progetti con i consiglieri di maggioranza. Quindi è una giunta lontana anche dalle esigenze dei cittadini. Pensate solamente al waterfront, non alla sistemazione del lungomare che da 8 anni che deve mettere in campo. Sono stati spesi milioni di euro per altri investimenti, ma del lungomare andate a fare un giro alla Sassoni, al Lido o anche a Ponte Sasso, Torretto o forse 6 ore, non abbiamo visto nulla. Avete fatto delle osservazioni durante il confronto con la maggioranza anche dal punto di vista economico, con particolare riferimento alla zona industriale di Bellocchi. Sì, nel bilancio del Comune di Fano manca completamente il primo settore. Chi produce ricchezza sul nostro territorio non è contemplato. Nelle zone industriali di Bellocchi manca completamente la progettualità, a bilancio non c'è un soldo, per far sì che le industrie che militano in quel luogo possano produrre ricchezza e posti di lavoro. Vi basti pensare al fatto che alcune aziende si devono asfaltare le strade da soli o tagliare gli alberi da soli per poter arrivare alla strada principale con i propri mezzi pesanti. Questa determina anche l'insussistenza di un piano regolatore che non è stato assolutamente valutato a bilancio. Non c'è una progettualità condivisa con gli imprenditori. E questo chiaramente per Fano è una grande perdita. Grazie a tutti.